io rimango a casa fatelo anche voi oggi la gente ti giudica per quale immagine hai vede soltanto le maschere ciao ragazzi io purtroppo non posso ma voi che potete dovete restare a casa e se continuiamo a stare a casa andrà tutto bene noi restiamo a casa d'accorda? io sto in casa e andrò tutto bene ciao a tutti noi restiamo a casa ciao 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 credo negli esseri umani credo negli esseri umani credo negli esseri umani che hanno coraggio coraggio di esseri umani andrà tutto bene noi restiamo a casa anche noi restiamo a casa e vedrete che andrà tutto bene grazie umani grazie umani grazie a tutti Grazie a tutti.